Consigliera di parità, oggi si parla di un piano di azione positiva, importante e fondamentale in prospettiva futura per le amministrazioni comunali e non solo? Già da un anno, anzi forse quasi due, abbiamo inviato a tutti i comuni e agli enti una lettera per chiedere l'attivazione dei piani di azione positive. Devo dire che i 104 comuni hanno risposto in un numero abbastanza elevato e quindi hanno redatto il piano di azione positive che non è altro che un piano triennale che l'ente deve redigere proprio per manifestare la volontà di attivare delle politiche di genere in favore delle donne. Quindi tutte le possibilità come la conciliazione vita-lavoro, come la flessibilità, la possibilità di fare carriera, non so, attivare un asilo nido, tutto ciò che può essere avvantaggio di un lavoro sereno all'interno di un'amministrazione per la donna. Diciamo che questo piano oggi vede anche la richiesta del benessere nei confronti del papà, quindi dell'uomo. Sono piani importanti perché se non vengono manifestati, se non vengono poi inviati, quindi fatti ed inviati alla consigliera di parità per un parere che deve essere positivo, la Corte dei Conti può anche non permettere le assunzioni ma laddove le assunzioni fossero state fatte senza un piano di azione positive attivato e quindi approvato possono chiedere l'annullamento di queste assunzioni. Quindi io credo che sia importante per i comuni redigere questo piano e inviarlo alla consigliera. Come dicevo sono tanti i comuni che l'hanno fatto quindi in un certo senso sono soddisfatta. La consigliera di parità però non è che si limita solamente a richiedere, deve anche vigilare sui contenuti nel senso che deve vigilare sull'attuazione di questi provvedimenti per cui abbiamo inviato proprio in questi giorni una lettera agli enti e ai comuni e anche alla provincia di manifestarci lo stato dell'arte di questi piani. Quindi stiamo adesso attendendo per sapere con delle relazioni che ci invieranno effettivamente che cosa è stato fatto in questo anno, anno e mezzo che appunto i piani sono stati approvati. Voglio anche ricordare che fino a quando io sono arrivato forse 4 o 5 comuni avevano inviato il piano di azione positive. Quindi è stato un lavoro abbastanza minuzioso quello nostro certosino affinché tutti i comuni inviassero questo piano. C'è da dire che molti comuni sono consorziati per quanto riguarda magari il segretario comunale eccetera, quindi hanno dovuto unire le forze per poterci mandare questo piano ben fatto. Oggi a Chieti si è parlato anche dei Cug, cosa sono? Sempre in quest'ottica, quindi dei piani di azione positive, accanto ai piani di azione positive un provvedimento importante è l'attivazione dei Cug, che sono comitati unici di garanzia. Una volta gli enti avevano il comitato pari opportunità, che aveva la funzione di attivarsi per una protezione o per affiancare il dipendente. Oggi il comitato non c'è più, ma ci sono questi comitati proprio di garanzia che sono a favore sempre delle donne per creare un benessere lavorativo. Quindi vengono nominati dei membri interni e delle sigle sindacali, poi attivano questo comitato unico e si discute su questi provvedimenti. Quindi è un comitato che cammina un po' a fianco a quello che il piano di azione ha previsto. Consigliera, voi avete mandato anche un questionario molto importante a tutti gli enti che hanno partecipato a una riunione che avete tenuto nei giorni scorsi qui a Chieti. Sì, allora, sempre nell'ottica di queste politiche di conciliazione e sempre nell'ottica del benessere lavorativo, noi nel 2013, il 26 febbraio del 2013, abbiamo attivato un protocollo d'intesa sulla conciliazione vita-lavoro. Hanno partecipato e quindi hanno sottoscritto questo protocollo molti enti, tra cui la Camera di Commercio, la CGL, le sigle sindacali, tutte le sigle, CGL, CIS, UGL, l'INPS, l'INEI, la Confindustria, l'API, la ConfAPI, la Goldiretti, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Comitato Promozione e Imprenditoria Femminile e l'ASL di Chieti e Lanciano Vasto, la Lega Coop e poi la Conf Cooperative, la CNA, l'ANMIC, l'ANMIL, l'UMS, l'ENS, l'UIL eccetera, tante altre sigle. Effettivamente è stato un successo perché è un protocollo molto sentito e quindi sottoscritto con grande volontà da tutte queste sigle proprio per attivarci insieme, per creare una sinergia ed attivarci affinché queste politiche di conciliazione siano veramente applicate e non solo così enunciate. La volontà è stata tanta, stiamo cercando ancora con un gruppo di lavoro di poter partecipare a qualche progetto e proprio questo numero elevato di partecipanti ci potrebbe permettere di avere una cordata notevole e partecipare con forza a progetti europei. Stiamo aspettando adesso la nuova programmazione proprio per entrare fattivamente all'interno di questi progetti. Alla luce di questo protocollo, dopo un anno e qualcosina, così abbiamo pensato anche di capire come questi enti che hanno aderito alla firma del protocollo abbiano agito nel loro interno. Quindi abbiamo inviato un questionario per comprendere loro all'interno del proprio ente come abbiano applicato queste politiche di conciliazione, se ci sono state, anche perché nei giorni scorsi abbiamo avuto la fortuna di avere Antonella Marzala che è la responsabile del progetto Lafam, che è un progetto di Italia Lavoro che sta girando in tutta Italia, che ha spiegato in maniera perfetta come si possano utilizzare queste politiche di genere di conciliazione per avere un benessere lavorativo, ma non solo per il lavoratore, ma anche per l'azienda. Quindi nell'ottica appunto di questa giornata stiamo cercando anche di comprendere all'interno del loro ente, stiamo cercando di comprendere come anche loro stiano applicando le politiche di conciliazione. Un po' ci stiamo esaminando, questo è. Abbiamo avuto anche a fianco e la fortuna di avere sempre con noi in questo percorso la dottoressa Tearossi che ha provveduto a preparare il questionario, ci ha seguito appunto in questo anno anche per quanto riguarda tutto il discorso dello studio sulle politiche di conciliazione e lei ci spiegherà adesso il questionario in quale ottica appunto l'ha inviato. Dottoressa Tearossi, vogliamo parlare di questo questionario, come è stato compilato, come è stato realizzato? Il questionario è stato realizzato in quanto vuole essere uno strumento, come diceva anche la consigliera di parità, per monitorare le attività e le azioni realizzate all'interno della provincia di Chieti da quelle associazioni, dagli enti che hanno appunto siglato un accordo, un protocollo d'intesa con la provincia di Chieti, proprio per capire quali sono, come dicevo, le attività inerenti alla conciliazione vita-lavoro. Il questionario quindi che è stato inviato a tali associazioni, a tali enti, vuole proprio sondare quali sono le azioni che sono state realizzate, quindi proprio per avere poi una sorta di database di quello che è stato fatto, capire anche quali saranno le future attività in corso di svolgimento oppure in programmate, capire anche se sono stati firmati degli accordi, dei protocolli con delle aziende proprio a fine di favorire l'attività lavorativa e quindi anche per far conoscere il progetto LAFAM, di cui parlava poco anzi la dottoressa Guarracino. Il progetto che è stato portato avanti dalla dottoressa Marsala, che viene diffuso in varie parti d'Italia, vuole proprio porre l'accento sulla conciliazione vita-lavoro, fornendo degli strumenti pratici, concreti, per i lavoratori ma anche per le aziende, proprio per favorire la conciliazione. Tutto il lavoro che verrà poi realizzato, perché i questionari saranno analizzati, verrà fornito un report finale per dare proprio un'idea di quello che è, di dare una fotografia diciamo della situazione nella provincia di Chieti, fa parte dell'attività che svolge l'osservatorio provinciale sulle politiche di genere, proprio attivato dalla consigliera di parità, che vuole essere proprio uno strumento per monitorare le condizioni di vita lavorative nella provincia di Chieti, sia accogliendo le situazioni di disagio lavorativo, quindi anche casi di discriminazioni, ma anche proprio lavorando sulla conciliazione vita-lavoro. Grazie a tutti.